Passa a FastWeb! Passa a FastWeb! In più il tuo FastWeb Store di Cava dei Tirreni ti regala una sim con il primo mese di ricarica incluso, minuti illimitati e 150 giga. Sei ancora indeciso? Vieni in negozio, siamo a tua disposizione! Ti aspettiamo presso il tuo FastWeb Store? In Corso Mazzini 58, Cava dei Tirreni!